Lady San Jasmine, ecco a voi Vittorio Cassinese! Ciao amici, vi aspetto in tanti questa sera per festeggiare con voi i 50 anni di Michele e la sua signora della Casa dello Spiedo, io naturalmente vesterò i panni di Leone di Lernia e vi proporrò con voi una marea di brani che l'hanno reso famoso, ciao vi aspetto in tanti stasera, sarà una grandissima festa, ciao vi aspetto! Non mancherà ovviamente il nostro Nico Doppio Zero, per voi il grande Renato che renderà un omaggio anche al mitico grande Renato, vai Nicola! Ciao Sorcini, vi aspetto tutti quanti, mi raccomando non mancate perché questa sera non sarà una serata grande ma una serata abbondante, ciao! Grande anche per quanto riguarda l'appuntamento non tarderà ad arrivare anche il diario segreto che abbiamo, come dire, scovato di Michele e la signora dove il nostro Frank, l'americano, leggerà alcuni passi della sua parodia, è vero Frank? Assolutamente sì, stasera alle ore 20 e 20 Guardatelo negli occhi In via De Robertis ci sarà una grande manifestazione Parla bene, mi raccomando Non mi disturbare Vittorio Perché ci sarà Questo qui è Frank l'americano Questo è l'imitazione Ci sarà la parodia di Michele e la signora Giuseppina Sveleremo tutti i segreti Come si sono dati il primo bacio E basta, non diciamo altro, non aggiungiamo altro Bene, allunghiamo un po' la camera Ritorniamo a appuntamento questa sera Ciao a tutti, ore 20 Mila con il Ingresso, ingresso Libero, gratis Ci saranno le Patata No, no, no Non sei niente No, no, no Ci sarà Sorpresi a go-go Ci sarà gratis